bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi settimana numero 9 per quanto riguarda le sfide della season 5 capitolo 2 di fortnite ne abbiamo viste anche altre ma andiamo a vedere subito subito ragazzi quella di oggi dobbiamo andare a recuperare i bunker segreti e ce ne sono ben tre in mappa sicuramente saprete le location ma chi le sta cercando beh le trova super facilmente il primo come state vedendo è all'isoletta quello vicina quella vicino a scogliere scoscese sotto questa casa se spaccate le rocce oppure se spaccate la legna trovate il primo dei bunker segreti il secondo invece si trova molto a destra della mappa proprio dietro corso commercio sulla costa in poche parole dove c'è quella spiaggetta là in basso basta semplicemente raggiungere potete prendere appunto questa spiaggia come punto di riferimento perché proprio sopra in mezzo a questo cespuglio è presente il secondo bunker segreto quindi bunker numero due trovato e per completare ragazzi la serie di bunker di bunker segreti basta andare proprio dietro pantano perché ce n'è uno sott'acqua forse non lo avevate ancora visto ma lo trovate esattamente qua sotto ragazzi siamo molto vicini a pantano lì davanti c'è la spiaggetta e il bunker è proprio nascosto quindi davvero semplicissimo trovare la posizione dei tre bunker mi raccomando ragazzi lasciate un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video un commentino noi ci vediamo in live sulla piattaforma viola anche adesso ciao